La storia di una famiglia In famiglia vede a qualcuno lontano, lontano? Sì Il racconto di un amore Il partito non lo dice? Che un comunista deve prendere la donna che ama e portarsela lontano? La nascita di una nazione A te com'è che non t'hanno ammazzato? Beh la prendete con tutti, fanno con me Attraverso gli occhi di un bambino Per il ciclo a tutto castro Baria Di Giuseppe Tornatore Stasera alle 21 Con Iris Stasera alle 21